Oh, oh! 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 Restituissimi i poteri oppure io ti annienterò! Oh! È tutto qui? Adesso ti mostrerò la potenza di un vero asino! Wow, Chulbull! Vedi, Jin, tu devi imitarlo! Da ora in poi usa il tuo potere e combatti! Devi essere un eroe, proprio come il Chulbull! Chulbull, sei molto coraggioso! Ora combatterò! Recita la formula magica! Agdam, agdam, gadam, ticadam, halam, falam, dun dun dam! Restituiscimi il mio potere e una sfera apparirà nella tua zampa! Così affronterò quella brutta strega! Per prima cosa andiamo a casa, poi ci penseremo! Veer, dove siete stati? Dadaji, la strega ha preso le tue sembianze e voleva catturare Jin Tu, per rubare tutti i suoi poteri! Combattere? Mi ha messo fame! Queste carote sono una vera bontà! Questa vita del genio è una pacchia! Posso tenere ciò che voglio! Chulbull, smettila di mangiare! Non metterti in mostra e ascoltami! La strega tornerà sotto mentite spoglie! Sii vigile e fai molta attenzione, molto furba! Lei non deve capire che tu l'hai riconosciuta! Dobbiamo catturarle il prima possibile e far restituire i poteri a Jin Tu! Dimmi, Veer, hai in mente un piano! Come possiamo aiutarti? Chulbull riuscirà a controllare i poteri! Sì, Dadaji, posso fare ogni cosa! Esco, vado e controllo! Ci vediamo! Ehi, asino! Togliti di mezzo! Desideri un asino? Aiuto! Aiuto! Questo asino da dove è venuto? Aiuto! Non mi ha mai successo prima della mia vita! Chulbull annulla la magia! Anche tu ti comporti come Jin Tu! Annulla la magia e restituisci i poteri a Jin Tu! Muoviti! Vuoi che restituisca il potere così che la strega Jin torni ad essere potente? Non sono un asino stupido! Ho capito che in realtà tu sei la strega Jin! Ciao, streghetto! Dove scappi, piccola strega Jin? Un topo! Ho tanta paura dei topi! Aiuto! Non ti preoccupare! Ci penso io a lui! Chulbull! Sono io, sono Bir! Aiutami, Chulbull! Aiuto, Chulbull! Aiuto, Chulbull! Bir, grazie per averlo preso! Ho trasformato la strega Jin in un topo! Farò apparire una trappola e la metteremo in gabbia! Hacato, bacato, bambì! Bir, la tua voce adesso sarà la... Sono io il vero Bir! Ascoltatemi, lei è la strega Jin! Hai fatto un ottimo lavoro, Chulbull! Sei stato bravissimo! Muoviti, restituisci il tuo potere magico a Jin Tu! Jin Tu prenderà questo topo e lo lascerà andare! Mentre la strega Jin rimarrà in gabbia! Cos'è questa fretta, Bir? Siamo una famiglia! Dici sempre che i poteri o sono miei o di Jin Tu non fanno differenza! Resta tutto in famiglia! L'hai detto tu! Ti ricordi? Chulbull non è esatto! I poteri vanno consegnati al legittimo proprietario! Forza, restituisci i poteri a Jin Tu! Non volete vedermi felice? Perché sono nato senza avere la magia? Perché non posso averlo per un po' di tempo, eh? Perché? Dimmi, per quanto tempo? Diciamo almeno 25 anni, eh? Chulbull, non essere un asino avido! Sei un asino molto gentile! Aiuti sempre gli altri! Non faresti del male a nessuno! Muoviti! Ridai il potere a Jin Tu! Non vuoi vedermi felice, vero? Va bene, restituirò tutti i poteri! Guarda la strega Jin come si agita tutta! Volevi trasformarmi in una strega come te? Ti piace la tua gabbia, brutta strega? Che strano! Questo topo si muove come un essere umano! Gesticola molto bene! Ho il dubbio che siamo stati ingannati! In realtà questo topo è Vir! Invece il falso Vir è la perfida strega Jin! Sì, tutto torna! Il mio ragionamento è esatto! Siamo tutti in pericolo! Dai, Chulbull! Adesso basta! Restituisci i poteri a Jin Tu! Muoviti! Ok, ok! Vorrei tenerli ancora per qualche giorno! Agadab! Agadab! Dimmi, tu sai Vir? Ticadam! Scoppiamo! Vir! Il topo eri tu! Scusami, ho sbagliato, Vir! Strega Jin! La nostra battaglia inizia adesso! Non mi batterai! Vuoi i poteri di Jin Tu? Allora affrontami! Chi sono quei due? Guarda me la storia in cielo! Vir! Non puoi vincere contro di me! Prima ti distruggerò, poi sarà il turno di Jin Tu! Ha! 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 Ha Scusiamo! Amore mio! Ma è terribile! È un pericolo! Forza! Vediamo chi vince questa lotta! Accanto, bacanto, bambigia, duca, balazir! Adesso dov'accommerci! Oh, no! Non può essere la mia magia! A cadva, cadva, bambi! Poteri, non lasciatemi più! Perché mi maltratti in questo modo? Sono la tua scopa preferita! Non capisco come ho fatto! Non volevo maltrattarti! Ti schiaccerò come se tu fossi una zanzara! Ok, mi trasformerò in una zanzara! Lasciami in pace! Liberami! Ora sarò in prigione! Ora tu tornerai in prigione! Jintù usa il tuo potere e riportala nel mondo magico dei geni! Grazie, Vir! Andiamo, strega Jin! Una bella prigione ti aspetta! Sìììì! Ehi! Dov'è Chulbull? Cosa succede, Chulbull? Voglio continuare a essere un genio ancora per un giorno! Noo! 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 Nooo! Noo! Noi! Grazie a tutti.